l'euro digitale sta arrivando e tutto questo fa parte del reset programmato a breve che con l'arrivo delle central bank digital currency sistemerà tutto che cos'è l'euro digitale cosa sono le central bank digital currencies e soprattutto perché 134 banche centrali nazionali stanno lavorando alla creazione di una nuova moneta digitale lo approfondiamo in questo video lo so è difficile da credere non è sponsorizzato dai poteri forti ma da un vero sponsor digibyte azienda leader nel campo it di cui parleremo più avanti nel video nel caso non mi conoscesse mi presento sono giorgio pecorari fondatore di piano finanziario società di consulenza finanziaria indipendente alla data di registrazione di questo video il patrimonio dei nostri clienti in consulenza supera i 50 milioni di euro sono anche fondatore di vend house società che effettua una varia tipologia di investimenti immobiliari nelle province di modena reggio e bologna e in questo video facciamo appunto un approfondamento sulle valute digitali però tradizionali non bitcoin criptovalute eccetera no la versione digitale delle valute che tutti ben conosciamo come il dollaro e l'euro che falliranno entrambi molto presto quindi prima della data del loro fallimento ci interessa capire cosa potrebbe succedere ma soprattutto penso sia interessante approfondire questo tema perché associata alle central bank digital currency ci potrebbero essere dei rischi legati alla privacy dei consumatori dei risparmiatori che devono essere tenuti in considerazione e non possono essere trascurati ne abbiamo parlato largamente in questo video che è un vero proprio documentario ma che non ripeterò per ovvie ragioni ma ti metto il link in descrizione perché è complementare è un po il prequel di questo video che di fatto è un aggiornamento le central bank digital currency o anche dette valute digitali possedute emesse da una banca centrale sono appunto una forma di denaro digitale che viene emesso dalla banca centrale di una determinata nazione è simile ad una criptovaluta con la differenza che il valore è fissato da una banca centrale ed è equivalente o quantomeno lo sarà quando entreranno in vigore in cina mi risulta ci siano già i primi esperimenti però siamo ancora in una fase molto embrionale di questa nuova tecnologia di denaro e avrà un valore al pari di tutte le altre valute dal denaro contante al valore di un bonifico ok quindi è un altro modo di pagare potenzialmente quali sono i pro e contro delle central bank digital currency faccio un breve riassunto ma ti rimando al video trovi il link in descrizione perché assolutamente senso capire meglio questi meccanismi in breve parole tra i pro c'è sicuramente il fatto che al mondo c'è tantissima popolazione che viene definita unbanked cioè che non ha un conto corrente accessibile e quindi mancano servizi di fatto di base cioè poter fare un pagamento è un servizio di base per noi nei paesi sviluppati questo è una cosa data per scontato ma direi un miliardo e mezzo di persone al mondo oggi è considerata unbanked quindi non ha questo servizio di base che può essere facilmente risolto con una cbdc un altro aspetto importante delle cbdc è legato al tema della sicurezza i depositi di una valuta digitale presso la banca centrale avrebbero un grado di sicurezza superiore rispetto alla liquidità che adesso magari tu hai sul conto corrente di una qualunque banca ci sarebbe un tema di efficienza tra i pro ci potrebbe essere appunto un tema di efficienza e di riduzione dei costi delle transazioni e questo è un tema che tornerà fuori nel corso di questo video tra i contro ci sono diversi contro tra cui un tema di privacy ok perché una valuta digitale controllata da una banca centrale senza un intermediario come può essere una qualunque banca inteso nei credit eccetera porterebbe la politica ad avere informazioni dei singoli cittadini potenzialmente eccessive no qualcosa che magari non vorremmo condividere lo potrebbe sapere il governo di una nazione in realtà poi le banche condividono già determinate informazioni prova a andare a prelevare 20 mila euro in contanti in banca e una segnalazione viene fatta comunque quindi c'è comunque un tema di privacy anche perché certe informazioni potrebbero rimanere scritte sulla blockchain quindi la privacy è sicuramente un tema da affrontare e poi altri temi che non approfondiamo ti rimando un'altra volta al video che sono temi legati alla competizione con le banche commerciali quindi appunto le banche che conosciamo tutti e un rischio di controllo governativo quindi sicuramente ci sono delle opportunità in una central bank digital currency ci sono dei rischi ed è per questo che produciamo questi contenuti con l'obiettivo di sensibilizzare chi maneggia del denaro chi vuole capire meglio come funziona il denaro per essere consapevoli delle implicazioni delle central bank digital currency e te lo anticipo per quelle che sono le informazioni di oggi dell'euro digitale che si sta studiando non mi sembra che ci sia da preoccuparsi eccessivamente però rimaniamo all'interno di uno strumento che per come ad esempio viene implementato in cina è molto preoccupante quindi lo strumento è potenzialmente preoccupante è una tecnologia che se usata con un approccio totalitario stile cina potenzialmente può avere delle grosse ripercussioni sul controllo dei cittadini sulla privacy per la versione in salsa europea ti faccio uno spoiler non mi sembra un tema particolarmente preoccupante prima di capire appunto cosa si sta discutendo a livello di unione europea dovremmo approfondire il perché potrebbe aver senso sviluppare questa nuova tecnologia nuova forma di denaro qual è il problema che si sta cercando di risolvere perché abbiamo bisogno di un euro digitale se lo chiedono sul sito della banca centrale europea partiamo da qui per poi immergerci in contenuti che ci permettono di avere una visione un po meno politicizzata della cosa sicuramente il punto di partenza è che stanno cambiando in modo importante cioè non da ieri ma negli ultimi 5 10 anni il modo in cui i pagamenti vengono effettuati i consumatori spendono i loro soldi all'interno dell'area euro o in generale nel mondo l'e-commerce è esploso negli ultimi 5 10 anni potremmo dire per questa ragione con l'obiettivo di salvaguardare il ruolo del denaro pubblico e mantenere fiducia nella nostra moneta stiamo esplorando i benefici di un euro digitale in due parole quali sono le evoluzioni appunto del denaro è il fatto che la gente paga digitalmente e che si vuole mettere a disposizione del cittadino un'altra tipologia di denaro e vedremo perché è importante tra poco il denaro con tante cash rimarrà comunque un'opzione disponibile non verrà sostituito ma l'obiettivo è quello di affiancare una nuova tipologia di denaro e vedrete che a livello strategico a mio parere ha assolutamente senso e oggi non possiamo dire che questo video è finanziato dai poteri forti perché appunto c'è un vero e proprio sponsor va bene il video è ricco di un politichese l'euro digitale renderà la vita più semplice sì ma non è chiaro perché renderà l'europa più forte non è chiaro perché ad una prima occhiata ma in realtà è vero innanzitutto partiamo da questo concetto di partenza che cos'è il denaro di una banca centrale il denaro che viene creato alla banca centrale europea o in una qualunque banca centrale chiamato denaro della banca centrale tutto il denaro che viene coniato che viene stampato da una banca centrale è disponibile al pubblico o anche detto denaro pubblico public money perché è emesso dalle istituzioni pubbliche la banca centrale e quindi back quindi vuol dire che dietro c'è un'istituzione pubblica la banca centrale europea o la fed per gli stati uniti che cos'è il denaro privato le banche commerciali unicredit intesa pensano a qualunque banca creano denaro questo è quello che succede quando ad esempio ti fanno un nuovo finanziamento e i soldi compaiono appears è un termine bello compaiono perché viene creato questo denaro sul tuo conto corrente e questo viene chiamato private money denaro privato a questi si aggiungono i pagamenti che fai con la carta debito o di credito che tu li faccia online su un e-commerce o quando vai in un centro commerciale e usi la carta di credito alla cassa tutti questi trasferimenti sono trasferimenti di denaro privato perché stai utilizzando denaro che è stato creato dalla tua banca e non dalla banca centrale europea quindi non public money ma private money allora questo è un tema molto tecnico l'obiettivo di questo video è farti capire meglio che cosa l'euro digitale ma ovviamente questo è un tema molto tecnico su cui se vuoi fare un approfondimento autonomamente però ci basti capire che c'è questa doppia tipologia di denaro pubblico e privato quello privato quello che viene creato dalle banche quando avviene un pagamento quando avviene un finanziamento e il pagamento può essere fatto con carta di credito o bonifico il problema che si vuole risolvere con l'euro digitale è appunto un tema di gestione del denaro privato perché te lo anticipo lo capirai meglio nel corso di questo video denaro privato e tutte le transazioni su carta di credito passano da realtà finanziarie aziende non europee visa mastercard ok i circuiti delle carte di credito non sono circuiti europei piero cipollone che all'interno della bce è appunto il componente del comitato esecutivo della banca centrale che sta lavorando sullo sviluppo del dell'euro digitale fa un esempio per far capire questo concetto del denaro privato ieri tornavo da francoforte volavo su una linea aerea europea italiana volevo comprare un panino italiano però per fare entrambi gli acquisti del biglietto aereo e del panino entrambi in territorio europeo ad aziende europee non ha potuto utilizzare uno strumento di pagamento europeo appunto perché la transazione la strisciata della carta di credito viene fatta con un circuito internazionale visa mastercard o american express questi sono i più importanti oggi in europa solo 20 economie su 7 hanno degli schemi nazionali di pagamento il che significa che ci sono dei paesi all'interno dell'area euro dove pure per comprare il latte deve utilizzare una carta di credito americana oggi il 64 per cento delle transazioni iniziate con carta in europa girano su circuiti internazionali tipicamente americani questa cosa non è indifferente lo si chiede ad un commerciante se indifferente o no allude al fatto che ci sono dei costi di utilizzo della carta di credito che paga il commerciante e molto spesso sappiamo che i commercianti non sono felici di far utilizzare il post come pagamento vorrebbero ricevere pagamenti in contanti perché perché associati a questi pagamenti ci sono le provvigioni associate al circuito internazionale dei pagamenti e sono questi tre visa mastercard american express questa è la ragione per cui ci sta guardando la banca centrale europea e sta lanciando l'euro digitale proprio perché i consumatori non sentono l'esigenza di questi sistemi certo no però ne sente l'esigenza uno il commerciante chi deve ricevere questi soldi che paga lui una commissione un costo per utilizzare circuiti internazionali di pagamento e ovviamente insomma il cittadino non ha una visione prospettica ma sicuramente c'è un tema di indipendenza da istituzioni finanziarie da società estere e quindi di rafforzamento strategico dell'europa senza entrare troppo nel dettaglio sui sistemi di pagamento perché ci interessa il giusto ed è anche molto tecnico però ad esempio quando fai bancomat i miei figli mi dicono cosa vuol dire fare bancomat che è un modo gergale per dire che vado in banca utilizzo il bancomat e prelevo i miei soldi ma se lo posso fare in una banca che non è mia è perché c'è un sistema di pagamento che permette alle banche di dialogare questo è il sistema italiano ok in portogallo c'è il multibanco in danimarca c'è dancort in germania c'è girocard in francia c'è cards bancaire non so se si pronunci così eccetera ogni stato ma non tutti gli stati ha un sistema differente però per quanto riguarda ad esempio i pagamenti bancari bancomat c'è già un dialogo tra questi sistemi a livello europeo per le carte di credito facci caso tira fuori la tua carta di credito oggi si passa su circuiti internazionali quindi fondamentalmente l'obiettivo della bce oggi non è detto che lo sia domani ma oggi non è tanto quello di imporre chissà quale tipo di controllo come invece avviene in altri stati sui consumatori sui risparmiatori ma di preservare la libertà dei cittadini di utilizzare uno strumento di pagamento pubblico non passando attraverso i circuiti internazionali quindi questa è la vera ragione per cui si sta sviluppando un euro digitale risolvere questo problema e rendere l'europa più autonoma dal punto di vista dei pagamenti a che punto siamo dello sviluppo di questa tecnologia di questo denaro digitale versione 2024 che se ci pensi assolutamente senso sviluppare adesso dal momento che appunto gli e-commerce sono esplosi e paradossalmente non ci sono più negozi nei centri storici perché tutto il commercio sta passando online sempre più pagamenti vengono fatti con carte di credito ed è giusto che si trovi una soluzione a questo che è un problema strategico dell'europa bene si stanno cercando possibili fornitori per lo sviluppo di una piattaforma e di un'infrastruttura euro digitale quindi tra l'altro ti anticipo che tra queste infrastrutture si era proposta anche amazon e gli hanno detto ciao ciao amazon l'infrastruttura ce la facciamo a livello europeo non vogliamo che ci siano fornitori esterni no non sei d'accordo mi sembra un'ottima idea si sta predisponendo anche il manuale di norme fondamentalmente questa è tutta una fase progettuale di questo nuovo sistema di pagamenti e se ci pensi è un progettone molto complesso che dei tecnici stanno sviluppando che poi dovrà essere ovviamente votato nelle sedi opportune penso il parlamento europeo l'obiettivo dell'euro digitale quindi avere un'infrastruttura alternativa per tutti i pagamenti quotidiani riducendo così la dipendenza da operatori non europei e promuovendo nel contempo la concorrenza a livello europeo no come si fa non essere d'accordo l'infrastruttura per un euro digitale potrebbe essere considerata come una rete ferroviaria comune europea utilizzabili dai treni di diverse società che potrebbero competere tra loro senza dover disporre di una rete di proprietà come oggi avviene invece purtroppo per il sistema dei pagamenti e tutti passano appunto sui circuiti visa mastercard eccetera proprio per ragioni di sicurezza la bce ha dichiarato di cercare un provider di infrastrutture europeo per poter creare questa infrastruttura e quindi americani ciao ne proprio perché solo soggetti giuridici con sede legale nell'unione europea e controllati da tali soggetti o da cittadini dell'unione europea potranno partecipare alla procedura di appalto proprio perché questa è un'infrastruttura strategica che deve essere sotto controllo europeo e quello che è interessante è che alcune delle paure del vecchio video delle central bank digital currency che potesse essere un sistema che metteva in crisi le banche commerciali tradizionali che poteva avere una serie di implicazioni tutti contro che abbiamo discusso in realtà sembrano essere ad oggi per quello che stiamo vedendo e leggendo non essere un particolare problema si vuole risolvere solo questo problema dell'infrastruttura dei pagamenti ma l'euro digitale esente da interessi proprio perché non si vuole andare in concorrenza con gli istituti di risparmio tra l'altro vi saranno limiti nella detenzione di euro digitale da parte del pubblico e di vieti per le imprese e le istituzioni finanziarie è uno strumento solo per regolare transazioni non per detenere patrimonio per quello si utilizza la liquidità o il conto corrente come adesso quindi i pericoli che si poteva pensare associati a una central bank digital currency non sembrano esserci l'euro digitale consentirebbe alle persone di effettuare pagamenti online con standard di privacy molto elevati di fatto superiore a quelli offerti attualmente dalle soluzioni commerciali qui ci dobbiamo fidare è difficile anche perché è talmente tecnico che io non ho le competenze per poterlo contestare questa frase mi sento di dire che però perché in altri contesti conosco bene le direttive europee tipo la gdpr che è la direttiva sulla protezione dei dati l'europa è molto attenta alla protezione dei dati molto di più di quanto non lo siano gli stati uniti e molto ma molto ma molto ma molto di più di quanto non lo sia la cina o i paesi emergenti quindi ovvio che rimane una valutazione qualitativa però se sei imprenditore se processi dati di clienti saprai quanto è pesante la direttiva gdpr e per carità ci vuole però vuol dire che è segno di un interesse da parte del popolo europeo da parte dei governanti europei a preservare e tutelare le informazioni riservate dei propri cittadini l'euro digitale ha quindi una finalità politica strategica no aiuterà le banche a rispingere l'assalto del big tech sui pagamenti per big tech si intendono i colossi tecnologici americani tipicamente non solo quelli dei pagamenti che abbiamo già menzionato ma proprio i colossi come google apple eccetera che hanno tutti i loro sistemi di pagamento e infatti la banca centrale europea ha già detto attenzione amici proprietari di iphone che l'euro digitale sarà incompatibile con l'iphone il tema qui è sempre un tema di sicurezza e se vuoi approfondire ti scarichi il pdf con tutte le slide e gli articoli trovi il link alla fine del video il tema è che l'euro digitale dove deve essere stoccato su supporti digitali no quindi un computer un telefono ed è per questo che entra in gioco lo sponsor di oggi digibyte perché se cerchi un prodotto tecnologico come un pc un portatile uno schermo un qualcosa in cui stoccare o gestire i tuoi euro digitali e magari non lo vuoi comprare ma lo vuoi noleggiare che è una possibile alternativa allora ti può aiutare digibyte che è una società che dal 1996 tra una moltitudine di servizi che offre ti permette di fare un vero noleggio di una moltitudine di prodotti tecnologici senza intermediari senza finanziarie e con anche un'assicurazione all risk quindi se per caso ti cade per terra il portatile con gli euro digitali sei tutelato perché c'è una polizza assicurativa che copre il prodotto che ti è stato fornito ci sono anche varie tipologie di noleggio a breve o a più lungo periodo e quindi è un servizio ideale per chi vuole l'utilizzo di un determinato prodotto tecnologico pc portatile o schermo però con un servizio all inclusive senza particolari sbattimenti o fatiche se vuoi maggiori informazioni sui prezzi e modelli a disposizione clicca il link con il pdf di questa presentazione che trovi alla fine del video per scoprire tutti i dettagli oppure contatta direttamente digibyte quindi dobbiamo preoccuparci di quest'euro digitale di questa versione della central bank digital currency in salsa europea ad oggi non mi sembra ci siano le condizioni per preoccuparsi non è niente di paragonabile a quello che invece è preoccupante come ciò che sta succedendo in cina esempio il fatto che c'è un sistema chiamato social credit quindi un punteggio del cittadino quindi un sistema che fa una classifica dei cittadini e li punisce se questi non rispettano determinate regole comportamentali com'è che ti punisce tipo ti limita internet ti impedisce di comprare determinati voli aerei tipo di lasciare il paese insomma è un controllo sociale piuttosto spinto tra l'altro fatto con videocamere ed intelligenza artificiale che ti monitora h24 quindi prova a non lo so non rispettare un semaforo superare i limiti di velocità ti riconoscono dalla faccia o dalla targa e dopo non puoi andare a fare la spesa non lo so delle cose di questo tipo sta succedendo in cina è inquietantissimo fammi sapere nei commenti se hai letto o approfondito questi temi a me inquieta tantissimo non mi sembra che la versione in salsa europea sia minimamente paragonabile anzi dal mio punto di vista risolve un problema strategico che l'europa ha in termini di dipendenza da nazioni estere cioè come abbiamo parlato in questo video della dipendenza da nazioni estere per quanto riguarda l'energia un altro tema strategico è il tema dei pagamenti mi piacerebbe un'europa indipendente da questo punto di vista se te lo sei perso link in descrizione con l'euro digitale possiamo dire addio al contante no no tranquillo non possiamo dire addio al contante innanzitutto rendiamoci conto che varie statistiche confermano che gli strumenti di pagamento hanno un impatto sull'evasione fiscale nel 2019 il totale mancato gettito legato ai pagamenti cioè quindi evasione di imposte come iva irpef e ires è stato pari a 36,9 miliardi 31,6 miliardi di questo mancato gettito deriva dall'utilizzo del contante le regioni con il maggiore utilizzo di contante come calabria e campagna sono anche quelle dove c'è la maggiore evasione c'è maggiore livello di economia sommersa non vale solo a livello di regioni italiane ma vale anche livello di confronti tra paesi nei paesi del nord europa c'è un maggiore utilizzo della carta di credito e l'evasione fiscale è molto più bassa di quanto non sia a livello italiano quindi mi sento di dire che ci sta avere un circuito di pagamento europeo di cui magari si riducono i costi per incentivare le persone ai pagamenti digitali e potenzialmente prendere due piccioni con una fava quindi svincolarsi da società americane e potenzialmente avere anche il beneficio di una riduzione dell'evasione fiscale no nel frattempo se proprio sei un amante del contante sappi che cipollone avverte avanti con l'euro digitale ma arriva comunque una terza serie di banconote e continuiamo a stampare carta come non ci fossero domani